Scandolo in una sanità foggiana, l'avvocato Lascara difende il direttore generale Vitangelo Dattoli, qual è la posizione del suo assistito? Molto mortificato perché non lo merita, questo incarico lui me lo conferì due anni fa, quando due anni fa furono fatte delle perquisizioni sulla medesima vicenda e già da allora era visibilmente mortificato perché è sulla bocca di tutti quello che ha fatto anche per gli ospedali uniti di Foggia, facendo risalire la china a una struttura che non navigava certamente in buone acque. Con lui, a detta di tutti e anche di persone che io non conosco, le cose sono andate molto bene. Leggendo gli atti, si tratta di vicende complesse per carità, indubbiamente articolari. Nel senso che c'è qualcosa per cui valga la pena di approfondire? Ma certamente, ci mancherebbe massimo rispetto per gli investigatori che da oltre due anni stanno lavorando su questa vicenda, quindi è giusto che si facciano tutti gli adeguati prefendimenti, così come è giusto che noi daremo tutte le adeguate esplicazioni. Risponderà, quando è l'interrogatorio risponderà? Allora, formalmente non c'è arrivata nessuna notifica, ma credo che in questa settimana, fine settimana, dovrebbe esserci, però non abbiamo avuto, io ad oggi, fino a questo momento, non ho avuto alcuna notifica. Dattoli risponderà? Certamente, ma non vede l'ora, non vede l'ora, anche noi ci auguriamo che venga fissato quanto prima, non vede l'ora di poter rispondere sia sotto un profilo tecnico, giuridico, sull'andamento di questo bando, di questa gara, sia sotto il profilo di alcuni rapporti umani che li vengono contestati, ma contestati nel senso di frequentazione. Tentato a Turba Tivadassa, lei pensa che con gli esami si possa ristabilire una certa posizione del direttore generale? Io credevo, credo e crederò sempre nella corretta applicazione della norma. Corretta applicazione non significa che le parti non possono avere divergenza di opinioni, ci mancherebbe pure l'essenza del diritto, avere divergenza di opinioni. Io confido nel diritto, il confido nel diritto è chi di chiunque, ovviamente, leggerà con la dovuta attenzione anche la nostra difesa che, diciamo, fino ad ora non è stato possibile esplicare perché il dottor Tato non è stato ancora interrogato. Peccato, poteva essere interrogato durante l'indagine, probabilmente avrebbe già potuto spiegare tante aspetti e tante procedure che a suo dire e a nostro parere sono perfettamente corrette. Rispetto invece alla posizione nel ruolo di direttore generale, è arrivata una sospensione, è arrivato un atto del prefetto? No, no, non so nulla da questo punto di vista. A lui non è arrivata nessuna comunicazione se no me lo avrebbe detto. A me tantomeno credo che si applicheranno le norme sul pubblico impiego che prevederanno probabilmente una sospensione dal ruolo che è automatica quando c'è una misura cautelare, però ecco non ne sono a conoscenza. Avvocato, una cosa che ci ha colpito molto è il fatto che, dato lì, andrà in pensione a breve, cioè resta sempre da pensare quella cosa per cui uno si rovina la vita alla fine di una carriera, alla vigilia del pensionamento. Beh, credo che questo deponga a favore suo, perché proprio per questa ragione uno che per trent'anni ha svolto il ruolo di manager, tra l'altro non dimentichiamo che quando in caira Bari sia il governo Vendola che il governo Fitto che il governo Emiliano hanno tutti e tre confermato lui, e stiamo parlando di tre persone completamente diverse tra di loro, se tutte e tre hanno riposto piena fiducia in lui è perché evidentemente è una persona che agita sempre con correttezza e competenza, quindi rende ancora più strano il tutto che sotto pensione vado a condizionare una gara di nicchia, tra l'altro. Non parliamo della gara, quella più grande di cui parlano i giornali, che riguarda altri indagati e non riguarda il dottor Dattoli. Una gara di nicchia per giunta senza aver ricevuto promessa di nulla, né di denaro o di vantaggi. Le carte che lei ha letto non risulta il fatto che qualcuno abbia promesso, lui abbia chiesto denaro, benefit, prebende, niente? Non solo non risulta, ma non è stato contestato, perché a Dattoli non hanno contestato la corruzione, tentata corruzione, concussione, induzione in debita, che sono tutti reati tipici del pubblico ufficiale, che chiede, pretenda, concorda, denaro o altra utilità. Qui nulla, non è stato contestato, quindi a di là che non c'è nelle carte, e proprio perché non c'è nelle carte, ovviamente la procura correttamente non ha contestato quello, ha contestato un'ingerenza nella formazione di un bando, di una procedura concorsuale, perché a dire della procura avrebbe in qualche modo agevolato, favorito questa persona, ma non si è capito poi perché. Visto che, ripeto, se uno in odore di pensione fa o può rimesso questa condotta, o lo fa per sistemarsi a vita con un congro, come dire, compenso criminale, oppure onestamente io non so perché, perché avrebbe dovuto farlo. Quindi, ripeto, è giusto il rispetto dei ruoli, i magistrati sono persone che hanno una grande esperienza sui reati della pubblica amministrazione, quelli che si sono occupati di questa vicenda, e lui giustamente non vede l'ora di poter finalmente rendere un interrogatorio per poter chiarire la posizione, e speriamo uscirsene quanto prima, almeno dal cautelare. Poi sicuramente un libero e democratico dibattimento farà ancora più luce sull'intera vicenda.